Tutto regolare, questa prima batteria di verso finale è la Varani, in prima posizione Bucolini, Luciani, forse le prime tre posizioni leggero margine di vantaggio per la Varani, vediamo adesso forse può avanciarsi la Luciani all'esterno per la seconda posizione, sono appaiate, ma no, anzi la Luciani mi si prende la seconda posizione, si lancia adesso in reputazione della Varani, sono utili, non vado a ruolo, vediamo i primi due, vanno in finale, la Luciani all'esterno per prendersi anche la prima posizione dei corsi, quindi Luciani e Varani, prima e seconda posizione, una partita regolare, questa seconda semifinale del Carrera all'interno, si duella per la seconda posizione, Cesca prende la seconda posizione, la terza, la flepa del Belusco, il grosso sedimento subito in la seconda, nel mirino alla flepa del Casier con qualche metro di vantaggio, siamo in reputazione, ma un po' solo a livello, ancora Casier, Belusco, ha portato Spidea e Romivo, ovvero ancora Casier in prima posizione per affrontare l'ultima posizione, per mettersi con gli ultimi 100 metri, per loro le due dalle prime due vanno in finalissima, Casier con Carrera, il città adesso all'interno per Belusco, quindi Carrera e Sarogni.